Si sta molto bene, c'è questo venticello caldo e stiamo andando verso la piazza Diaz dove c'è il concerto Battiti Live organizzato da Telenorba e ci saranno un po' di cantanti interessanti, lo potete seguire in streaming e sul web, su Radio Norba e quindi vi consiglio di seguirmi. Ciao! È una bella abbronzatura, mi sono addormentata, c'era un vento e mi sono bruciata. Grazie!